numero uno Miera dell'Orso squalificato Miera dell'Orso che sbaglia finisce squalificato e la partenza è convalidata abbastanza caotica con Masterpiece IC al comando con un buon margine sul lido d'alfa ho preso i 2000 metri non ho preso i primi 200 quindi 2000 metri tondi Masterpiece in vantaggio 14 e 6 la frazione dai 2000 ai 100 siamo ora al passaggio di fronte al tribone Masterpiece al comando lo segue a intervallo lido d'alfa poi o il can sull'inco del ventrice resto dei e ok go Masterpiece leader i 646 scarso ripeto sono fuori i primi 200 metri dal cronometraggio quello mio personale seconda curva Masterpiece in vantaggio poi lido o il canna l'incolla dei veltri geresto dei ok go uno uno e mezzo ma il completamento anche della seconda curva con Masterpiece in chiara e evidenza mille metri in uno 16 e quattro sul mio cronometro per Masterpiece in c che a metà della retta opposta le tribuna guida sempre con quattro lunghezze sull'ido d'alfa uguale intervallo il canna su l'incolla dei veltri una frazione in quattordici e due ora per Masterpiece c che tiene sempre ritmo selettivo lido cerca di riportarsi sotto poi o il can l'incolla dei veltri mancano 600 metri alla conclusione Masterpiece sempre in vantaggio quattordici star sull'ultima frazione di Masterpiece c ciò nonostante lido d'alfa riguadagna qualcosina al battistrada che va via di lena mancano quattro euro centromenti all'ultima ok go squalificato ok go finendo squalificata intanto Masterpiece in vantaggio lido sulle sue tracce poi o il canzi che pare anche l'incolla dei ventri 15 resto dei Masterpiece in vantaggio lido che prova l'aggancio poi l'incolla dei ventri a centropista Masterpiece alla corda lido che si impegna ridosso del leader che ancora un discreto vantaggio poi l'incolla dei ventri che finisce molto forte Masterpiece lido l'incolla dei ventri che guadagna molto nel finale sul palo l'incolla stampa Masterpiece poi lido d'alfa al terzo posto io ho due ventinove per i duemila metri